Per il via la prima delle cinque semifinali del governo, anche per queste gare, con un posto, dalla vostra visolare sembra che tutti i cambi siano stati effettuati con regolarità. Atteniamo, ripeto, qualora non fosse stato così. Si sta incrementando. Siamo già alle battute confusiche. Questo non tende a schiattamento all'interno della squadra prima il tempo, 40 e 65. A regolare questa volta la partenza della finale team sprint ai due di Femmine, gruppo di concorrenti che sta avviandosi per dare in cambio. A regolare questo giro a tutta velocità, questo giro sprint, è incerto il rischio di questa prova perché vediamo l'attacco per tanto per via esterna che sta avendo successo. Vediamo ora l'uscita di fronte come si presenteranno le varie formazioni per affrettare il tratto finale della prova. Siamo alle fritte, l'emusivo e l'uno si trova in questo momento che chiude anche questa domanda a vincere.